Con Fabrizio Borriello parliamo di un grande traguardo che hai raggiunto proprio domenica, le 500 partite in carriera, insomma un traguardo che non tutti raggiungono immagino, ti fa piacere e soprattutto sei emozionato per questo traguardo? Sì, sicuramente è un piacere e un riconoscimento per tutti i sacrifici, per tutta la passione che ho verso questo sport che è gran parte della mia vita, è logico che non capita a tutti, questo è il ventunesimo anno che gioco in una prima squadra, ci tengo a precisarlo che le 500 presenze sono solo ed esclusivamente in campionato ovviamente non conteggiando le varie partite di Coppa Italia o dei playoff. Sì, diciamo che 500 partite è un conto paro ma è un gran bel numero e veramente sono molto orgoglioso di quello che faccio. Come si riesce ad arrivare a 500 partite? Come ci arrivi tu perché ancora sei in grande forma? Beh, ripeto, il sacrificio, la passione, la voglia, la cattiveria di raggiungere sempre un obiettivo, di cercare sempre di migliorarsi e ogni allenamento è ovvio che a volte uno va un po' più convinto, a volte magari con il lavoro o con altri impegni che uno può avere può essere un po' più scarico, però credo che il segreto sia proprio questo, la passione e la voglia di migliorarsi in qualsiasi momento, a qualsiasi età, in qualsiasi categoria. C'è un momento, una partita che ricorderai in maniera speciale? Beh, diciamo che di queste partite, di questi ricordi ne ho molti e fortunatamente ho anche vinto parecchio in questa carriera e quindi di ricordi ne ho molti. Forse il ricordo un po' più speciale è quello della finale dei playoff d'andata che giocammo con la Civita Vecchiese a Budoni, dove tra l'altro segnai anche il primo gol del vantaggio. E quell'anno, ecco, quel 2005-2006 penso che rimarrà proprio indimenticabile nella memoria mia, di tutti i miei compagni, tutti gli addetti ai lavori, di una città che sognò ad occhi aperti. E adesso si punta alle 600 presenze, oppure comunque ti volevo chiedere se chiuderai la carriera al Santa Marinella oppure ti immagini anche da qualche altra parte? Ma guarda, sinceramente adesso non mi pongo questo tipo di problema o di quesito, vado avanti, conto quest'anno di chiudere comunque ovviamente con una salvezza. Adesso l'importante è quello, cercare di raggiungere l'obiettivo con il Santa Marinella, impegnarsi e far sì che tutti gli sforzi e i sacrifici che stiamo facendo ci portino al risultato, all'obiettivo che c'eravamo posti all'inizio stagione. E poi chissà.